Sporcizie, attivandalici, orinatoi a cielo aperto, tensioni, affondano sempre più nel degrado i vicoli del centro storico della città di Sulmona, un'altra città nascosta che sta emergendo man mano con le proteste e le segnalazioni degli esausti residenti. Ogni weekend tutte le strade invisibili si trasformano in orinatoi per l'assenza probabilmente di banni pubblici o chimici, soprattutto in concomitanza dei grandi eventi, ma questo non giustifica l'inciviltà, come sottolineano gli abitanti della zona. Negli ultimi tempi sono tornati di moda anche gli attivandalici, l'altro giorno sono state tagliate le gomme a un'auto di proprietà di un residente di via Quatrario, che era invenuto anche dei segni sulla propria dovettura. Non sarebbero mancati i momenti di tensione con il presuntatore del gesto tra i due e nato una lite, fortunatamente stroncata sul nascere. Tra sabato e domenica i vicoli sono stati attenzionati anche dalle forze dell'ordine che prima intorno alla mezzanotte di sabato, poi intorno alle tre, sono intervenute con un pattugliamento dopo la segnalazione di possibili tensioni tra via Corfinio e zone limitrofe. Secondo gli abitanti del quartiere serve un controllo più sistematico per tenere sotto controllo certi fenomeni. Basti pensare che la scorsa settimana una trentenne è finita in cometilico ed è stata recuperata dall'ambulanza proprio in via Corfinio. Scene simili, fortunatamente non della stessa portata, si sono verificate anche nei weekend. La sensazione è che oltre al quartiere degli incendi ci sia un'altra città nascosta, nei vicoli del centro storico.